Raga, occhi alla roba che sto sempre agli accipicchi, eh? Dai! Lidio! Ti ricordi quando ti ho detto che non li avresti convinti di essere il capo con un orologio falso al polso? L'originale, Panamir del 1938. E tu? Ah, shit. Grazie. Aspetta. Ti ho detto che questi sono dei pidoni, vero? Per qualcuno il pidone è un animale sacro, perciò pure sti stivali sono sacri. Infatti io so vent'anni che ce l'ho, mi hanno sempre parato il culo. Quanto porti da piedi? No, 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 Lidio, lascia stare. Sai qual è il senso di ruota amicizia? E condivide quello che c'è con chi sta con te. Ti è amico mio. E tu resti senza. C'ho quelle di riserva a casa. Grazie. 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 Grazie.